I legali del sindaco di Pescara Marco Alessandrini e del suo ex vice Enzo Del Vecchio si preparano a chiedere il rito abbreviato nel procedimento penale relativo all'inchiesta sulle cosiddette ordinanze fantasma dell'estate 2015 per le quali sono finiti sotto indagine della procura di Pescara assieme al dirigente del comune adriatico Tommaso Vespasiano. I tre sono accusati di concorso in omissioni di atti di ufficio per aver omesso, stando all'accusa sostenuta dai PM di Serio e Mantini, di emanare idoni provvedimenti amministrativi volti a tutelare la salute pubblica e ad impedire la pubblica balneazione nei tratti di costa. L'inchiesta ruota attorno alla rottura della condotta del depuratore di Pescara in via Raiale che determinò lo sversamento in mare di 30.000 metri cubi di liquami e alla ordinanza del 3 agosto del 2015. L'accusa sostiene che fu tardiva rispetto al momento in cui gli amministratori erano stati messi al corrente della non balneabilità delle acque. Il procedimento penale sulla balneabilità del mare di Pescara che si trova nella fase dell'unienza preliminare è stato unito a quello relativo alla City, il complesso edilizio che sorge sempre a Pescara nei pressi dell'aeroporto d'Abruzzo. Le indagini sull'estate 2015 infatti partirono da un'intercettazione telefonica nell'ambito dell'inchiesta madre sulla City. Anche per la parte del processo relativa al presunto abuso edilizio, gli avvocati dell'ex sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e dell'ex assessore comunale ai lavori pubblici Marcello Antonelli si preparano a chiedere il giudizio secondo il rito abbreviato. Per quanto riguarda la City, gli imputati complessivamente sono 15. Oltre a Mascia e Antonelli sono coinvolti nel procedimento l'imprenditore Marco Sciarra, legare rappresentante della società iniziativa immobiliare abruzzese, l'amministratore unico della società Imar Costruzioni, Giovanni Pagliarone, il direttore dei lavori per le opere strutturali, l'ingegnere Carlo Galimberti, il direttore dei lavori architettonici, l'architetto Mario Durbano, tra gli imputati per abuso d'ufficio, anche una serie di dirigenti della regione Abruzzo e del comune di Pescara, Antonio Sorgi, Carla Mannetti, Gaetano Silveri, Emilia Fino, Pierluigi Caputi, Mario Pastore, Gaetano Pepe, Lanfranco Chiavaroli, Enrico Iacomini. Al centro dell'indagine c'è la variazione di destinazione d'uso deliberata dall'Aggiunta Mascia. Il Gup Gianluca Sarandrea ha aggiornato l'udienza al prossimo 17 novembre.